Benvenuti in PlayerUnknown's Battleground. E cavolo, era ora che facessi un video su PUBG. Da dove vi faccio vedere il mio personaggio senza la maschera, che è una fusione tra Jindylost e Markiplier. E infatti di solito gli metto una maschera antigas, così almeno sta zitto. Uno dei motivi per cui ho ritardato a farlo anche il video è perché non so come montarlo, non so come renderlo di intrattenimento PlayerUnknown, perché quello che si fa la maggior parte del tempo è correre. Tutto bene lei? Tutto a posto? E siamo partiti. Ma questo qua c'ha un buco sul collo che trema, tra l'altro. Mi butterei qua e vado in quella casetta lì nell'angolo, sperando sempre poi che la zona sicura non sia così distante. Oplala. Io spero di trovare anche solo un UMP, che è diventata la mia arma preferita. Funziona da vicino, funziona dalla media distanza. Niente, un fucile. Sabaku. Guarda quanto si gonfia! Bella! Però non siamo partiti così male, dai, potevamo partire decisamente peggio. E siamo tra l'altro al pelo della safe zone, ottimo, ottimo. E ho trovato un car! Fottetevi tutti! Non dovrei insultare gli avversari in un video, perché so che poi mi sciotteranno con una balestra da 4.000 km di distanza e non potrò più dire niente. E avrò fatto una figura di merda. Però non me ne faccio niente del car se non trovo un mirino. C'è l'airdrop lì, però. Potremmo andare a sparare i poveracci che vanno a prenderlo. No, però, mi sa che è lontanissimo. Dicevo appunto prima che per me è molto difficile riuscire a montare un video di player non-battleground perché questo è quello che si fa per tutto il tempo. Se riuscissi a trovare anche solo un 4x sarei a cavallo. Olografic! E vabbè. No, non vedo un cazzo! Questo sarà un lungo, lungo video per me. Potrei andare verso quella collinetta a vedere chi stava sparando, però non ho abbastanzarmi per difendermi. Non ho abbastanzarmi decenti per difendermi. Ho visto la mia preda. Si muove, ma è troppo lontana. E ho il mirino sbagliato, puttana! Però almeno adesso sono diventato il Matrix. Ma scusa, questa è una macchina con una persona dentro? Era all'interno della macchina che sembrava una testa, ma santo cielo! Cazzo, qua finisce che impazzisco, altro che... Mi è venuto in mente che non ho neanche roba con cui curarmi. Perché hai esplorato pochissimo, cretino! Che paura incredibile! Che spavento incredibile! Io credo di non essermi cagato mai così tanto addosso come oggi. Cos'è quell'affare che sbuca dall'acqua? Il mostro di Loch Ness! Ma un altro! Sta finalmente succedendo? Ci hanno invaso? È finita! Oh, guarda che c'è un altro stronzo che sta accadendo qui. Casco, quickdraw, sedia a rotelle. Cosa? Oh, un uzi, un uzi! Un uzi! Dammi le munizioni, anche il fucile! Sento correre qualcuno, sento correre qualcuno! Mio Dio! Mio Dio, si è bloccato tutto! Aiuto! Ok! Ho trovato un bel po' di roba, lo zaino, l'M16 e... E un giocatore, quello là? Non capisco, sembra un giocatore o una macchia contro il muro. Erano le piastrelle, perfetto! Ah, però l'M4, ancora meglio! Non so se sono pronto per fare i culi. Mi serve, ecco, il giubbotto, un 4x, una camicia bianca, non so perché l'ho presa. Non capisco se sia già stato esplorato questo magazzino. È vuoto, completamente vuoto. Ma c'è un cadavere qui! E quindi sì, erano stati lootati quei magazzini. Tra l'altro mi fa veramente strano giocare a Battleground senza niente in sottofondo, perché di solito gioco male, perché non si dovrebbe fare in un gioco del genere dove l'audio è importantissimo, gioco guardandomi qualcosa nel secondo schermo. In questo periodo sto facendo il re-watchione di distretto di polizia. Ma che cazzo ci facevi qui? Coglione! Santo cielo, sei un deficiente! Avevi anche il car, allora spostiamo tutti i mirini. Adesso ho paura a entrare nei container, mortacci vostra. Ah, volevo giusto dirvi che io in questo momento sono in mutande e sto sudando talmente tanto che la sedia sta quasi per assorbirmi e diventerò al 100% arredamento. Anzi, fammi vestire anche più pesante di così. Quanto vorrei un 8x in questo momento? Mi converrebbe salire lì che, visto che ho il car e camperare un po'? Ciao mamma, sono su YouTube Games! Bravo! Bravo! Ma che dobbiamo fare quando uno è coglione? Infatti direi di andare via dal porto e magari addentrarci un po' di più. Ma... Ma dai, come ho fatto a prendere danno? Vedo qualcuno... Molto lontano. Sta scendendo l'aerdrop, potrebbe essere... Cos'è quello schifo? Cos'è una bottiglia di champagne? Ma è scaduto il tempo, sta arrivando la barriera! Ti prego fa che quest'albero sia dentro la zona sicura. E lo è? Forse lo è? Non lo è? Porca puttana non lo è! Eh, niente, sono morto. Non so da dove mi spara, non so da dove mi spara. Ah, era lì davanti, cazzo! E siccome siamo Gene di Lost, non possiamo non correre sulla carcassa di un aero precipitato. Io lo sapevo che dovevo continuare a non registrare PlayerUnknown's Battlegrounds, che sarebbe venuto fuori una merda di video. Almeno abbiamo trovato una padella. Ma dai, ma solo pistole, eh? Vabbè. Vuota! Vuota! Bene! Ti prego, almeno in cucina. Ma no la balestra! Eh, vabbè, prendiamola. Mi sembra veramente troppo avanzato tecnologicamente il mirino di una balestra. Non sarà un po' troppo? Ma che ne so io, mica sono un esperto di balestre. Oh, l'M4. Finalmente qualcosa di decente. E la KM, che ha anche un pelo più di munizioni. Vabbè, togliamo sta cazzo di balestra. Cambiamo la KM, so che è molto forte, però mi serve un'arma a distanza ravvicinata. Il vectore è ottimo. E il metto a livello 2. Perfetto. Mamma mia! Che cazzo di headshot! C'è un'altra macchina lì che si è fermata. Vuol dire che quello è sceso e mi sta guardando. Oh, merda, 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 merda. Stanno sparando, però! Arrivo! Cazzo! Sono stupido! Ho fatto una giocata di merda! Sono stupido! Io sono andato addosso correndo. Perché? Mi sentiva, mi ha visto in terza persona. Dammi qualcosa. Oh casa, dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Oh, gentilissimo, grazie mille. Di solito nel magazzinone lì azzurro si trovava qualcosa. E ho trovato il car. Vaffanculo! Ho un cappello militare livello 2. Gli metto il red dot per ora. Perché non ho nient'altro. Ehi! Ci sono delle tende? Non credo di averle mai viste queste tende qui. Ah, c'è proprio tutto. Ci sono anche i classici barattoli di latta senza nessun tipo di indicazione sopra. Allora, le metto a livello 3. E il vector. Di cui non ho assolutamente neanche una munizione. Sono qui per terra. Ce ne sono quattro. Beh, 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 beh. E mi metterei anche gli occhiali protettivi. Perché con quest'elmo ne ho proprio bisogno. Ecco perché c'è pocazione dove sono io. Sono al bordo della safe zone. Eh, ma che schifo! Ecco appunto, no? C'è uno che sta correndo lì. E io non ho il mirino giusto, cazzo! Non posso avere così tanta sfiga in sto gioco, maledetto. L'unica cosa che posso fare è mirare nel posto di guida e sparare quando lui sale in macchia. Sono pronto, sono pronto. Ho colpito ma non è successo niente. Di nuovo. Merda, ma visto. Si è fermato con la macchina. Eppure mi sembravano buoni colpi quelli di prima. Porca miseria, il mirino! Io lo so che lui mi sta aspettando perché la terza persona è una merda come io sto guardando quell'angolo e lui starà guardando me. Preso! Yes! Ho ucciso la 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 le 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 le! Buono, buono. Il 2x lo accetto. Ovviamente non avevo un cazzo di niente che mi serva in questo momento. È partito ma sono partito anch'io. Dai che si va, dai che si va! Ma santo il Dio! Ma che palle! Fermo qui perché non so dove fermarmi. Siamo sdraiati un momentino qui. Prendiamoci l'energy drink per riempirci la vita e poi decidiamo cosa fare. Poi io ho sentito sparare di là. Dietro questo albero c'è una casa. Mi ha visto. È definita perché io non so dove lui. Non so dove sia. Quindi niente. Niente, mi tocca scappare di nuovo con la macchina. Ce la potrei fare a piedi ma rischio di essere shottato da questo qui. Quindi conviene andare via. C'è uno che corre lì. Bravissimo. 8x! Cazzo! Ma fai giù! È merda! L'ho ucciso! Cazzo l'ho ucciso io! Però devo andare fuori dall'aria e curarmi. 3, 2, 1... Vai! Merda! Merda che male! Non oso neanche immaginare quanto abbia bestemmiato quello che ha tentato di uccidermi e non ci è riuscito. Non ci è riuscito di uccidermi